Oggi parliamo dell'espressione aiutati che Dio ti aiuta. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene. Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Qualche giorno fa stavo parlando al telefono con mia mamma. Mia mamma ha quasi 60 anni e negli ultimi anni ha imparato ad usare il computer. Ha imparato ma è ancora un po' difficile per lei. Per esempio, se deve stampare un documento e la stampante ha finito l'inchiostro, lei non sa come fare. O se deve provare a fare qualcosa di nuovo, ha paura di sbagliare. Ha paura di fare degli errori. Stavo parlando al telefono con lei proprio di questa cosa. Mi aveva detto che non sapeva come scannerizzare un documento perché mio papà ha comprato una nuova stampante e adesso lei non sa più come fare. Mentre parlavamo, mia mamma si lamentava. Non aveva provato a scannerizzare. Si lamentava che non sapeva come fare. Io ad un certo punto le ho detto Mamma, aiutati. Che Dio ti aiuta. Cosa vuol dire? E come ha reagito mia mamma? Questa espressione, questo proverbio, è antichissimo e esiste in varie lingue. C'è in inglese, in francese, in spagnolo e forse anche in altre lingue che non conosco. La versione più antica è forse quella di Esopo. Come sai, Esopo è stato uno scrittore greco antico, famoso per le sue favole. La favola che ci interessa si chiama Eracle e il carrettiere. Un carrettiere stava conducendo, stava guidando il suo carro quando è caduto in un burrone, in una grande buca. Questo carrettiere era pigro e pregava il Dio Eracle di aiutarlo. Era pigro nel senso che non cercava attivamente di uscire dalla buca, di tirare fuori il carro dalla buca. Piangeva, si lamentava e pregava Eracle di aiutarlo. Ad un certo punto Eracle appare. Gli spiega come tirare fuori il carro e poi gli dice di pregare gli dèi solo se sta attivamente cercando una soluzione al problema. Insomma, hai capito il significato di questo proverbio. Se vuoi riuscire a fare qualcosa, devi fare, devi essere attivo, perché è inutile pregare e lamentarsi e piangere, se poi non hai la volontà. Quindi nel caso di mia mamma, quando le ho detto questa cosa, lei ha cominciato a gridare al telefono che assomiglio a mio papà, anzi, che sono peggio di lui. Anche oggi abbiamo finito. Come sai, sono un professore di italiano molto cool, per cui puoi trovarmi su LinkedIn, su Instagram, su Facebook e su Twitter e se vuoi puoi trovare le trascrizioni degli episodi sul mio Patreon. Noi ci sentiamo domani. Ciao! Grazie a tutti!